Buongiorno, oggi parliamo del livello dell'intensità sonora di un segnale, di una perturbazione che può essere un'onda. Data una sorgente con una potenza P e data una superficie ricevente di dimensioni di area A, si definisce intensità sonora la potenza della sorgente divisa per la superficie ricevente. Se stiamo trattando una sorgente puntiforme che emana la sua potenza sonora riformamente nello spazio circostante, possiamo supporre che un ricevente che si trovi a una distanza r dalla sorgente veda equidistribuita su tutta la superficie sferica tridimensionale intorno al punto sorgente la potenza che appunto la sorgente distribuisce nella zona circostante. In questo caso allora la superficie sulla quale si immagineva distribuita questa energia nell'unità di tempo diventa una potenza è pari a 4πr quadro, cioè la superficie di una sfera immaginaria di raggio r di centro corrispondente con la nostra sorgente. quindi l'intensità sonora sarà proprio la potenza diviso 4πr quadro e questa è la potenza per unità di superficie percepita da un oggetto o una area che si trovi qui e faccia da ricevente. Si tratta dunque di una potenza specifica, cioè per unità di superficie. A seconda della dimensione dell'oggetto ricevente questa potenza potrà essere percepita in misura maggiore o minore. Per capire quest'ultimo concetto si può esprimere in generale la potenza come una forza per una velocità. La velocità sarà quella del suono, la forza sarà quella con la quale il fronte d'onda sollecita oggetti che si trovino ad una certa distanza r. Ora, se noi separiamo forza e velocità nella potenza avremmo una forza diviso una superficie quindi si capisce bene che questa sarà una pressione che è equidistribuita dunque su tutta la sfera di raggio r. A seconda della dimensione della ricevente questa pressione verrà moltiplicata per una superficie maggiore o minore. Quindi la forza totale dipenderà da quanto la superficie è estesa. Coerentemente alla formula l'intensità sonora sarà data in Watt per metro quadrato. Ma come l'orecchio umano percepisce questa intensità sonora? Cioè ci occupiamo adesso del livello percepito. Il concetto quindi che andiamo a introdurre è quello della percezione. Se andiamo a costruire un grafico in cui la variabile dipendente, l'ordinata e la percezione e in cui la variabile è indipendente l'intensità sonora uno potrebbe pensare che si tratti di una caratteristica di tipo lineare cioè vale a dire che quando raddoppia l'intensità sonora raddoppia anche la percezione. Per capire di cosa stiamo parlando analizziamo innanzitutto la soglia di udibilità dell'orecchio umano e si tratta di 1 per 10 alla meno 12 Watt al metro quadrato. Per intenderci il fruscio delle foglie è 1 per 10 alla meno 11 Watt al metro quadrato e si tratta di 10 volte il valore di soglia. Si tratta di valori estremamente bassi e immaginiamoci l'uomo primitivo che sta cacciando e percepisce la presenza della preda grazie al fruscio delle foglie. Per sopravvivere l'uomo deve cacciare e quindi è fondamentale percepire le foglie che si muovono. Saltando molti livelli sonori come esempio passiamo direttamente al T-Rex cioè un animale pericoloso che l'uomo fa in maniera opportuna deve sentire per poter scappare e sopravvivere. Quindi si tratta di 1 per 10 alla 0 Watt al metro quadrato. Questo vuol dire che tra il cacciare e lo scappare il livello di intensità sonora percepito varia di 10 alla dodicesima volte. Ora 10 alla dodicesima diciamo che è un miliardo e 10 alla nona. Quindi si tratta di mille miliardi di volte più grande questo rispetto a questo. Ora se la percezione dell'udito andasse in maniera lineare questo avrebbe creato all'orecchio umano un po' di problemi qualora fosse diciamo più predisposto a sentire il fruscio delle foglie. Vale a dire alla comparsa del T-Rex l'orecchio dell'uomo sarebbe esploso. O viceversa se l'orecchio fosse stato più vicino e calibrato alla 1 per 10 alla 0 Watt al metro quadrato probabilmente l'uomo non avrebbe sentito il fruscio delle foglie cosa che non gli avrebbe permesso di cacciare e quindi di sopravvivere. Quindi entrambe le cose attengono alla sfera della sopravvivenza e per cui capiamo bene che la percezione non può essere di tipo lineare di questo tipo un tipo che una modellizzazione matematica definisce logaritmo è un modello quello che si avvicina di più alla misurazione di queste sensazioni fisiologiche. Ma cosa vuol dire un grafico di tipo logaritmico? Vuol dire che all'aumentare dell'intensità non cresce linearmente la percezione ma si va affievolendo nel senso che per un raddoppiarsi di intensità sonora non si ha un raddoppiarsi della percezione questo ci permette appunto di essere calibrati per il suono delle foglie ma resistere al tirannosauro che ci sta inseguendo nella giungla. Il modello matematico proposto per la percezione è dunque il decibel la cui formula matematica è 10 logaritmo in base a 10 della potente intensità diviso l'intensità di soia che sarebbe i con 0 pari a 10 alla meno 12 watt al metro quadrato. In questo modo quando i è pari proprio a i0 noi abbiamo il logaritmo in base a 10 di 1 che è proprio pari a 0 e quella è proprio la soia cioè sento e non sento. Innanzitutto correggiamo la dicitura dell'asse delle x cioè l'asse delle scisse in i sui 0. Quando adesso rispetto a i sui 0 pari a 1 andiamo a prendere 10 cioè nel caso appunto delle foglie per i sui 0 uguale a 10 allora avremo un altro livello beta. Questo livello beta in decibel sarà dunque 10 logaritmo in base a 10 di i sui 0 che questa volta sarà pari a 10. Questo valore è esattamente 1 perché il logaritmo in base a 10 di 10 è pari a 1 da moltiplicare per 10 quindi 10. Inseriamo nella scala anche il bisbiglio che ha un livello di intensità sonora un'intensità sonora pari a 10 alla meno 10 watt su metro quadrato quindi l'ordine di grandezza è quello successivo vale a dire il bisbiglio vale in termini di intensità 10 volte le foglie dunque nel caso del bisbiglio i fratto i 0 è pari a 100 quindi nel caso del bisbiglio in termini di i sui 0 ci collochiamo esattamente qui adesso andiamo a vedere qual è il beta corrispondente cioè in termini di decibel in questo caso abbiamo un beta pari a 10 logaritmo in base 10 di 100 ma il logaritmo in base 10 di 100 non è altro che 2 quindi i decibel corrispondenti al bisbiglio saranno 20 vale a dire mentre l'intensità sonora si è decuplicata dalle foglie al bisbiglio il nostro beta si è semplicemente raddoppiato il che è coerente con gli esperimenti di fisiologia perché pare che appunto la il rumore percepito dall'orecchio umano per il bisbiglio sia di una livello semplicemente doppio rispetto alle foglie e non di 10 volte questa taratura fatta con gli esperimenti di fisiologia sull'orecchio umano e sul rumore percepito è necessaria appunto per validare il modello dei decibel che quindi è aderente alla realtà una cosa molto importante appunto è che l'orecchio umano si comporti in questa maniera è anche associato sostanzialmente alla sua sopravvivenza perché questa logaritmicità dell'andamento gli ha permesso di sopravvivere al mondo naturale percependo una anchissima gamma di potenze sonore appunto dalle minime le foglie che si muovono fino alla potenza di un animale feroce o anche di un concerto rock perché in questo caso il k-rex coincide a livello di intensità con il concerto rock rock